Finché avrò forza e entusiasmo, come disse il grande Pino Daniele, chi ama la musica come me, lui disse sul palcoscenico ci sta fino a che muore. Se non fossi un musicista sarei sicuramente un pilota automobilistico perché ho avuto questa passione, l'ho continuata anche con un caro mio che si chiama Giorgio Faretti. Eccoci qua, siamo in macchina, e ne stiamo andando a quello che non è un concerto, in questo caso è un firmacoppio. Saranno 40 anni che non ti vediamo. E stina? Grazie a tutti. Grazie a tutti.